Io trovo che sia un'iniziativa splendida, proprio perché sappiamo che molti non hanno il coraggio o le possibilità di addentrarsi nelle sacre mura di un teatro come il Metropolitan o come il Teatro alla Scala di Milano e questo naturalmente è importantissimo di portare quello che noi facciamo in queste sacre mura, come abbiamo detto, di portarlo a un altro pubblico, a un pubblico che forse preferisce andare al cinema piuttosto che andare a teatro ed ecco adesso ne ha l'occasione di essere partecipe di queste iniziative al cinema anziché al teatro e chissà, la prossima volta si trovano magari più interesse a entrare in un teatro. Grazie a tutti